Io credo che Gastone Moschin sia un grande attore che non ha avuto il tributo della critica del pubblico che avrebbe meritato. Ne ha avuto tanto, però secondo me non è sbagliato accostarlo ai grandissimi del Novecento italiano, della commedia italiana, Sordi, Gasman, ecc. Moschin aveva la capacità di saper interpretare personaggi completamente diversi l'uno dall'altro. Lui ha interpretato un mafioso di quartiere nel Padrino, quindi un personaggio completamente diverso da quelli che ha fatto in film che abbiamo nella nostra memoria. Ad esempio, in Amici miei, lui è l'architetto Melandri, che gira con questo cane enorme, ereditato dalla donna che ha portato via a un altro di questi scioperati che andavano in giro per Firenze a fare le zingarate. Forse è il personaggio che più di tutti abbiamo nella mente di Moschin, l'architetto Melandri. Ma io vorrei ricordare un altro personaggio straordinario, forse meno ricordato dagli italiani, interpretato da Moschin, che è il ragionier bisigato nel capolavoro di Pietro Germi, Signore e signori, ambientato a Treviso alla metà degli anni Sessanta, un film che vinse la Palma d'Oro a Cannes. Il ragionier bisigato è un contabile di una banca veneta, del Veneto allora cattolicissimo e molto bigotto, che si innamora di una commessa di un bar, una meravigliosa Birnalisi con i capelli neri, perché Germi l'aveva ordinato di tingersi di nero. Ecco, quel film, che è uno dei capolavori del cinema italiano, secondo me è la più bella interpretazione di Gastone Moschin. Ha provato perfino, pensate quanto era bravo questo attore, a fare Don Camillo dopo che morì Fernandella. Quindi aveva provato perfino a fare una parte che era talmente ingombrante per l'attore che l'aveva interpretata prima. Eppure il Don Camillo di Moschin è un Don Camillo da vedere. Ci ha lasciato non molto tempo fa, vive nei nostri film, va ricordato tra i grandi del Novecento italiano.